Buon Natale a te che vieni dal nord, porta in dono Allora, intanto un disco per Natale uno potrebbe dire lo fai perché a Natale tutti comprano, fanno regali eccetera Il mio mestiere non è quello di fare il cantante Quest'anno volevo essere solidale con qualcuno, volevo avere un obiettivo umanitario Ho pensato di chiedere qual era il progetto più urgente che Amref stava per realizzare